Appuntamento SIEI, realizziamo impianti tecnologici su infrastrutture industriali e pubbliche, gallerie ed autostrade. SIEI, riusciamo a vincere le sfide più impensabili. SIEI, riusciamo a vincere le sfide più impensabili. Tra Veneto, Anci e Istituto Scolastico Regionale, lezioni ad hoc nelle scuole del Veneto. A fronte dell'arrivo in Veneto di almeno 3.000 profughi, le prefetture hanno contattato i comuni alla ricerca di nuovi spazi, esclusa l'apertura di grandi centri d'accoglienza, ma mancano appartamenti. Oggi è l'ultimo giorno dei saldi, il freddo di questi giorni ha dato un impulso agli acquisti dell'ultima ora, bilancio positivo del commercio. Arsenale di bombe della grande guerra scoperto in un'abitazione del Comelico, denunciato il proprietario. Si indaga su un possibile sversamento del tritolo sul piave che ha reso verde le acque del fiume. Il Sacrario di Asiago è in cattive condizioni e gli alpini si offrono volontari. Se qualcuno mette a disposizione i materiali, sono disposti a lavorare per restituire dignità a un luogo importante. Artisti di strada, Verona punta a diventare come le grandi capitali europee, nuove regole per aumentare la loro presenza nelle piazze e nelle aree turistiche della città. TG Veneto News, prima edizione, buongiorno e ben ritrovati. In apertura purtroppo, come avete sentito, la cronaca e la triste vicenda del 17enne colpito da una grave forma di meningite. Si sono spente oramai le speranze di rivedere Tommy sul parche dei palazzetti. Il 17enne non ce l'ha fatta. Sentiamo tutti i dettagli da Barbara Todesco. Sì, buongiorno. Si sono spente anche le ultime speranze di mantenere in vita il 17enne di Tezze sul Brenta che dalla scorsa domenica è ricoverato al San Bassiano per una meningite da meningococco di tipo B. Alle 10.30 di questa mattina è iniziata infatti la procedura che porterà alla dichiarazione ufficiale di morte cerebrale dopo sei ore di osservazione da parte di un'apposita commissione medica. Nelle scorse ore all'esterno del nosocomio bassanese aveva fatto la sua comparsa uno striscione con la scritta Forza Tommy e nella serata di ieri i compagni di classe del liceo da ponte e gli amici bassanesi e trevigiani del basket si sono radunati sotto alle finestre del San Bassiano per una veglia di preghiera. Tutto purtroppo risultato inutile. Intanto per tutta la giornata di ieri è proseguita l'attività di tracciamento dei contatti avuti dal 17enne nei dieci giorni precedenti il manifestarsi della malattia. Già 287 le persone sottoposte a profilassi e ora chiamate anche a sottoporsi alla vaccinazione per il meningococco B. Il giovane studente al liceo scientifico e componente di due squadre di basket una del settore giovanile di NBA e l'altra di Riese Pio Decimo Nell'weekend del 18 e 19 febbraio aveva preso parte anche a due feste una privata a Tezze sul Brenta e l'altra in una palestra di Marostica Bene, cambiamo decisamente argomento Giornata oggi di giunta in Veneto a Palazzo Valbi e poi la sottoscrizione di un protocollo di intesa per la lotta all'antisismitismo tra Veneto, Ance e Istituto Scolastico Regionale Ci saranno delle lezioni ad hoc dunque negli istituti ma si è parlato anche di sanità è stato presentato il nuovo DG di Azienda Zero In ogni caso ci colleghiamo con la nostra Gabriella Basso che sta seguendo la conferenza stampa che è tuttora in corso quindi a te la linea Gabriella Sì Paola siamo qui a Palazzo Valbi come dicevi giustamente tu oggi è una giornata importante per questi due argomenti che tu hai citato in questo momento si parla proprio di antisemitismo e del protocollo che sarà siglato tra l'ufficio regionale scolastico e il presidente dell'Anci Veneto per portare appunto la lotta dell'antisemitismo appunto nelle scuole dopo i recenti fatti che hanno visto proprio dei blitz contro gli studenti vi ricordo le vicende appunto di Firenze il timore che il tema dell'antisemitismo, del revisionismo, del negazionismo possa ancora fare breccia nel 2023 è un tema che il presidente Luca Zaia vuole assolutamente allontanare da quelle che sono le scuole i giovani sono delle creature, giovani e mente da formare quindi si parte proprio dalle scuole ma come dicevi giustamente tu oggi c'è stato anche il passaggio ufficiale di consegne tra il direttore generale Luciano Flor della Sanità del Veneto e il nuovo direttore generale appunto di Azienda Zero della Sanità del Veneto Massimo Anichiarico e i temi importanti di questo incarico diciamo le prime cose che dovrà fare Anichiarico sono quelle delle liste d'attesa quindi abbattere le liste d'attesa e la carenza dei medici non ha nascosto che sono problemi importanti sono problemi difficili da risolvere perché non c'è la bacchetta magica ma si sta già attivando e lavorando per una migliore organizzazione e in questo momento appunto come vedete anche alle mie spalle si va verso la firma di questo protocollo appunto contro la lotta contro l'antisemitismo e io direi a questo punto di dare la linea allo studio e lasciare le immagini appunto della firma del protocollo bene grazie Gabriella così vi lasciamo appunto completare le immagini che ci serviranno anche per il Tg di questa sera grazie Gabriella e noi andiamo avanti con il nostro notiziario era presente in conferenza stampa anche il prefetto di Venezia e proprio le prefetture sono chiamate a svolgere un grosso lavoro oggi in vista dell'arrivo di nuovi profughi gli sbarchi di chi è in fuga da guerra e povertà non si placano 3.000 nuovi arrivi in Veneto in una prima ondata poi probabilmente altri 3.000 andiamo dunque a vedere qual è la situazione a Vicenza con il servizio di Chiara Beato il signor prefetto ha annunciato che ci sono già una decina una ventina di persone già in arrivo all'interno della provincia Vicenza gli sbarchi non si fermano neppure con il mare Forza 4 e all'indomani della strage sulle coste della Calabria il barchino che si spezza e 60 persone che muoiono annegate il tema dell'immigrazione è quanto mai drammatico 3.000 nuovi arrivi in Veneto in una prima ondata poi probabilmente altri 3.000 e Vicenza che ha già 75 accoglienze con il SAI e 60 immigrati in via Giordano è chiamata a dare una risposta ulteriore ma il sistema dell'accoglienza diffusa appare al momento impraticabile le varie cooperative che in questo momento stanno lavorando sul territorio hanno tutte manifestato una vera difficoltà nel trovare gli appartamenti il prefetto si è impegnato anche ad aumentare quelle che sono i ristori economici l'arrivo degli ucraini ha saturato l'offerta di spazi qualche anno fa era stato utilizzato l'ex baronio ma stavolta l'ipotesi AB è scartata la scommessa per tutti i comuni è trovarsi pronti agli arrivi improvvisi stiamo tuttavia già lavorando con il prefetto a dimostrazione della disponibilità a trovare una strategia rivolta a reperire eventuali capacità di accoglienza sul nostro territorio siamo consci della scottante attualità di questo problema epocale che non può ovviamente lasciarci indifferenti intanto sale la tensione sul fronte casa con una media di due sfratti alla settimana per tante famiglie vicentine abbiamo veramente dell'urgenza all'interno della città che vanno rivolte alle famiglie sfrattate in questo momento e anche le famiglie che sono all'interno dell'albergo cittadino che dovremo ricollocarle esternamente e andare quindi a dare assistenza ad altre famiglie di residenti senza casa Sicità il tema resta di stretta attualità con agricoltori e allevatori preoccupati per una situazione meteo che non cambia e che rischia di compromettere raccolti e alzare i prezzi e dopo lo stop legato alla pandemia torna però la manifestazione Vicenza Agri che quest'anno si terrà per la prima volta proprio in fiera a Vicenza tante le iniziative in programma nel fine settimana tra il 4 e 5 marzo naturalmente molti i dibattiti di approfondimento proprio sul tema della siccità e su come affrontarla Sentiamo Dopo tre anni di stop legati al Covid torna e questa volta in fiera a Vicenza, non più al Foro Boario Vicenza Agri, la rassegna dedicata all'agricoltura e al giardinaggio un'edizione che però deve fare i conti con il cambiamento climatico e quella siccità che sta tenendo con il fiato sospeso questo settore C'è una forte preoccupazione soprattutto in questo momento perché l'attesa pioggia che doveva arrivare questo fine settimana non è arrivata e di conseguenza ci mette ancora di più in difficoltà Se l'anno scorso abbiamo avuto una riduzione di produzione del 40% quest'anno se partiamo così e non arriva l'acqua sicuramente sarà maggiore e di conseguenza va a mettere ancora di più in difficoltà le aziende del territorio in questo momento E a soffrire è anche il mondo dell'allevamento È ovvio che il perdurare della siccità farà sì che tendenzialmente aumentino i costi delle materie prime quando adesso si cominciava ad avere un pelino di discesa e un po' di stallo è ovvio che più in allevamenti questo è un problema significativo Sabato 4 marzo si aprirà la manifestazione con ingresso gratuito con una grande rassegna di trattori, macchine, attrezzature con occasione di approfondimento e divertimento per tutti con gli eventi anche di Passione Veneta e con la possibilità di vedere gli animali delle fattorie Quest'anno abbiamo deciso di cambiare location per dare una nuova immagine di quella che è la fiera agricola di Vicenza la Vicenza Agri per dare un volto nuovo all'agricoltura che sta cambiando E la cronaca ci fa rimanere nel Vicentino Torniamo, ricorderete, a quelle immagini dei ragazzi che si picchiavano nel piazzale del centro commerciale era sabato 18 febbraio Beh, sono stati individuati i ragazzi dalla polizia e sono tutti minorenni I dettagli ce li racconta Tommaso Quaggio Buongiorno, sono quattro i giovanissimi e tutti minorenni denunciati dalla polizia dopo le risse scoppiate lo scorso sabato 18 febbraio nell'area del parcheggio del centro commerciale Palladio dove i protagonisti di due distinte aggressioni si sono affrontati reciprocamente con pugni, calci e spintoni il tutto ripreso dai telefonini dei coetanei che non solo hanno assistito alle scene compiacenti e senza in alcun modo intervenire hanno anche postato tutto sui social network ed è proprio grazie alla visione e all'analisi di questi filmati che la polizia è riuscita a dare un'identità ai soggetti coinvolti tutti minorenni, vicentini, studenti negli istituti scolastici del capoluogo il primo episodio di violenza è un vero e proprio combattimento senza esclusione di colpi ha visto protagonisti due giovani minorenni alla fine uno dei due, un ragazzo vicentino di 15 anni ha riportato contusioni e escoriazioni in varie parti del corpo che sono state poi medicate al pronto soccorso e da qui è partita quindi la denuncia per il reato di lesioni personali poco prima di questo episodio però sempre nell'area del parcheggio del centro commerciale Palladio due ragazzine anch'esse minori si sono a loro volta affrontate tirandosi i capelli e affrontandosi con violenza nel corso di una aggressione con schiaffi, pugni e calci mentre tutto veniva filmato dai telefonini dei coetanei che poi hanno nuovamente postato questi video sui social network il fatto preoccupante però che è venuta a sapere la polizia è che dopo questo episodio accaduto sabato 18 febbraio i ragazzini si erano date nuovamente appuntamento sempre al centro commerciale Palladio sempre nella stessa zona per affrontarsi in sfide di violenza e percosse senza alcun motivo e al fine di evitare tutta questa situazione la polizia fortunatamente aveva predisposto dei controlli straordinari che hanno evitato nuovi episodi sulla questione abbiamo intervistato questa mattina il questore Paolo Sartori allora ascoltiamo le sue parole poi la linea può tornare allo studio dovremmo identificare, dovremmo essere identificati tutti gli altri giovani che hanno partecipato passivamente all'aggressione in sé ma attivamente per quanto riguarda le incitazioni quindi istigazione a delinquere e per quanto riguarda anche il fatto che hanno diffuso i filmati che hanno registrato quindi le indagini stanno proseguendo ma intanto i quattro partecipanti sono stati identificati Ancora giovani protagonisti della cronaca parliamo di corse clandestine in moto che si sono tenute in una zona industriale le forze dell'ordine bloccano infatti un maxiraduno a Cittadella con un centinaio di motociclisti l'ultimo episodio nella stessa zona risale allo scorso novembre ma il fenomeno interessa diverse zone del Veneto con appunto gare clandestine scoperte a Riese Pio X e a Cassola nel Bassanese Maria Vittoria Bagarella Sgommate, corse fogli e ruota alta magari anche con due amici caricati sullo scooter e perché no anche senza casco il fenomeno delle gare clandestine sembra inarrestabile questo video caricato sui social è di tre mesi fa girato nella zona industriale di Cittadella dove nel weekend c'è stato l'ennesimo raduno centinaia i centauri con scooter e moto da cross che si erano dati appuntamento ma prima che la sfida iniziasse il blitz di carabinieri e polizia locale ha bloccato tutto circa una settantina di ragazzi una cinquantina sono stati identificati è chiaro che l'intervento della polizia locale e dei carabinieri è un intervento in via precauzionale cioè si vuole far sì che questi ragazzi non si facciano del male sicuramente la zona industriale non è una zona adatta alle corse per fare corse servono tutta una serie di permessi naturalmente bisogna essere anche abilitati a farle queste corse l'area conosciuta come Zitac luogo prediletto per le gare un vasto parcheggio l'asfalto perfetto lunghi rettilinei la zona di proprietà dell'omonima impresa che già novembre a sporto denuncia e sembrerebbe intenzionata a presentarne una seconda ma il mese antecedente il ritrovo pubblicizzato sui social era per Riese più decimo sempre zona industriale sempre moto da cross e scooter alcuni truccati alcuni anche sprovvisti di targa e assicurazione un pubblico pronto ad applaudire alle esibizioni folli di quelli che per la maggior parte sono ragazzini provenienti da tutto il Veneto altre corse sono state scoperte nel Bassanese a Cassola a Riese le forze dell'ordine hanno identificato e denunciato gli organizzatori un sedicenne e un quattordicenne saldi oggi è l'ultimo giorno ma ne parleremo dopo una breve pausa rimanete con noi 14 musei nazionali distanti al massimo 100 km da Venezia scoprili tutti su www.polomusealeveneto.beniculturali.it cultura attorno Venezia Ministero della Cultura Direzione Regionale Musei Veneto Seconda parte del nostro telegiornale che riparte dai saldi quello di oggi è l'ultimo giorno per poter fare acquisti scontati naturalmente di capi invernali e il freddo di questi giorni ha proprio dato un impulso alle vendite proprio in queste ultime ore visto il freddo bilancio dunque positivo da parte del commercio a quanto pare ma ci racconta tutto Maria Vittoria Bagarella per noi in centro a Padova a te la linea Maria Vittoria Si buongiorno Paola dal centro di Padova dove si sta assistendo una corsa all'ultimo affare dalla mezzanotte di oggi infatti terminano i saldi invernali favoriti quest'anno dal colpo di coda dell'inverno questo gelo che ci ha accompagnato negli ultimi giorni e che ha spinto molti indecisi dell'ultimo minuto invece a finalizzare l'acquisto di un capo invernale ovviamente anche favorito dal prezzo scontato dei saldi dunque sorridono sono soddisfatti i commercianti del centro di Padova per questa stagione di saldi che è iniziata il 5 gennaio con un più 5% di vendite rispetto allo scorso anno conclusa ancora meglio secondo Federmoda siamo attorno al più 8% di vendite rispetto al 2022 non solo ci sono alcune tendenze da sottolineare che hanno caratterizzato questo 2023 infatti aumenta il prezzo medio dello scontrino e dunque questa tendenza green i clienti tendono a acquistare in base alla qualità piuttosto quindi alla quantità di conseguenza si fa più attenzione alla fattura del capo alla qualità del tessuto e aumenta il prezzo medio per scontrino non solo perché sono sempre di più i clienti che entrano non solo per guardare ma invece proprio e già con chiare precise intenzioni di concludere l'acquisto e poi un'altra tendenza quella che molti clienti iniziano la loro ricerca dell'acquisto da portare a casa con i saldi a prezzo scontato online ma poi la concludono offline nel negozio fisico e quindi si parte con la ricerca nel web quello che era considerato insomma il peggior nemico delle nostre botteghe dei centri storici però poi la ricerca li porta proprio ad un negozio fisico vicino a casa e dunque anche a poter toccare con mano quello che si vuole acquistare dunque dall'offline all'online il web che si sta trasformando da minaccia a opportunità dunque da sfruttare anche per i piccoli negozianti per i negozi del centro storico primo momento dunque da Padova è tutto l'Ineat che torna allo studio grazie Maria Vittoria cambiamo decisamente argomento ci trasferiamo nella bellunese per un maxi sequestro di ordigni bellici li vedete già alle mie spalle l'attività dei carabinieri di Cortina ha portato infatti al sequestro di materiale bellico in un'abitazione a comelico superiore e potrebbe esserci peraltro anche un collegamento con la colorazione particolarmente verdastra della piave segnalata nei giorni scorsi il servizio è di Giovanni Zanon i carabinieri di Cortina hanno denunciato un uomo per detenzione illegale di armi ed esplosivi il fatto è avvenuto a comelico superiore poco prima del diffondersi di fotografie e notizie che segnalavano il fiume piave colorarsi di verde i militari ipotizzano che gli eventi siano collegati e che l'uomo possa essersi disfatto di materiale incriminante gettandolo nelle acque si tratta solo di un'ipotesi scaturita dall'operazione condotta dai carabinieri che ha consentito di rinvenire due fucili dei primi del novecento ma anche 80 bombe a mano alcune in pessimo stato di conservazione oltre a numerosi proiettili di artiglieria il materiale è stato prontamente sequestrato nell'ambito dello stesso servizio inoltre i militari hanno anche proceduto al sequestro di una pistola a carico di un altro soggetto che aveva trasferito il luogo di custodia dell'arma senza darne comunicazione all'autorità va precisato che il collezionismo militare e disciplinato dalla legge presuppone una serie di adempimenti e non esclude le responsabilità in materia di detenzione di materiale bellico o esplosivo spesso rinvenuto attraverso un'attività clandestina di metal detecting chiunque rinvenga o possieda reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario specificano i carabinieri deve ottemperare all'obbligo di comunicazione entro 60 giorni dal ritrovamento al comune del luogo della raccolta indicandone la natura la quantità e la provenienza potendosi configurare in caso contrario il reato di furto di beni culturali oggetti che anche se apparentemente innocui possono essere ancora molto pericolosi per questo motivo i carabinieri al momento del ritrovamento nel comelico hanno fatto intervenire gli artificieri che hanno messo in sicurezza il materiale prima di sequestrarlo supportati dall'unità cinofila per la ricerca di esplosivi il sacrario lo vedete alle mie spalle cade a pezzi e gli alpini sono pronti a lavorarci anche gratis il sacrario di Asiago è in cattive condizioni gli alpini si offrono volontari se qualcuno mette a disposizione i materiali dicono di essere disposti a lavorare per restituire dignità a un luogo così importante Emanuele Borsato Siamo stanchi di promesse di progetti presentati e mai portati avanti del continuo rinvio di interventi improcrastinabili a questo punto dateci i materiali e i lavori li facciamo noi parole di Enzo Biasia presidente della sezione Ana Monte Ortigara di Asiago stanco dell'immobilismo delle autorità competenti sulla riqualificazione del sacrario militare dell'Aiten parole cariche di amarezza e delusione pronunciate a Gallio durante l'assemblea annuale della sezione di fronte anche al presidente nazionale Sebastiano Favero infiltrazioni d'acqua dalla terrazza sopra la cripta lapidi che cadono a pezzi decorazioni rovinate in tonaci degradati Biasia ha definito davvero tristi le condizioni del monumento che rende onore ai caduti trasferiti da 36 cimiteri di guerra il ministero della difesa ha annunciato più volte finanziamenti mai visti e lavori mai partiti da qui lo sfogo del presidente datici materiali che i lavori li facciamo noi alpini assieme alle altre associazioni d'arma e alla gente dell'altopiano che può vantare il fior di architetti e imprese edili e lo stesso vale anche per la strada che conduce al monte Ortigara chissà che quella via percorsa da decine di migliaia di persone all'anno possa tornare transitabile da tutti ha detto Biasia in questo caso almeno la regione ha stanziato da poco 500 mila euro per portare avanti l'intervento giornata del ricordo il raduno di 400 scout giornata del pensiero per 400 scout bellunesi il raduno provinciale a Feltre la scelta è caduta su questa città proprio in ricordo di Maria Cristina Masocco 400 scout da tutta la provincia si sono dati appuntamento a Feltre per la giornata del ricordo incontro annuale con cui gli scout di tutto il mondo festeggiano il compleanno dei loro fondatori Robert Stephenson Smith Baden Powell Lord of Giguel per gli scout semplicemente BP e sua moglie Olav nati lo stesso giorno la giornata del ricordo nella nostra zona viene ospitata a turno dai vari gruppi che sono nella Val Belluna in questo momento quest'anno in particolare abbiamo scelto di celebrarla a Feltre anche in ricordo della nostra Maria Cristina che è mancata questo inverno 5 gruppi della nostra zona questo per la Gesci poi c'è il gruppo provinciale del Masci degli adulti scout i gruppi sono Feltre Mella Belluno Sospirologron e Sedico per tutta la giornata bambini ragazzi e adulti hanno animato il centro cittadino e i suoi dintorni impegnati in giochi ed attività sul tema della pace quella auspicata per tanti paesi come l'Ucraina e quella che nasce nella quotidianità da gesti e azioni che parlano di accoglienza e tolleranza lo ha ricordato anche il vescovo Renato Marangoni che ha presieduto in Duomo la messa conclusiva tra i partecipanti e anche l'associazione insieme si può a cui gli scout a Gesci della provincia hanno scelto di devolvere quest'anno i penni le monetine che dal 1926 nel giorno del compleanno dei loro fondatori tutti gli scout del mondo donano per aiutare chi ha più bisogno e che quest'anno più che mai vogliono essere mattone per costruire un ponte di pace crediamo che sia importante per costruire i punti di pace innanzitutto la conoscenza la conoscenza dell'altro la seconda cosa crediamo che l'ambiente e la natura devono essere rispettati e deve essere garantito un equilibrio integrale a livello mondiale crediamo importante riflettere sulle risorse e le ricchezze del nostro mondo c'è bisogno di collaborazione tra i popoli perché le ricchezze vengano ridistribuite ragazzi in montagna ragazzi anche davanti a un computer hanno simulato una giornata di lavoro in un'azienda super tecnologica a Montecchio all'Accademia Xera 22 studenti di informatica sono stati coinvolti in un progetto di formazione l'obiettivo punta a sfruttare la tecnologia per ricreare proprio le connessioni umane e relazionali che la didattica a distanza ha annullato durante gli anni della pandemia i ragazzi hanno lavorato alla progettazione di impianti sistemici con precise consegne da rispettare e qualche trabocchetto da risolvere utilizzando proprio il pensiero creativo sicuramente è stata un'esperienza molto originale rispetto alla solita routine scolastica 22 studenti di quinta indirizzo informatico partecipano a una tre giorni di formazione tra aula e laboratorio interattivo nella sede inaugurale dell'Accademia Xera di Montecchio Maggiore e l'obiettivo è ambizioso è un'esperienza formativa diversa dall'ordinario cioè non solo a scuola ma anche in azienda e vivere poi con noi una giornata intera dalla mattina alla sera in azienda simulazioni sperimentazioni ma anche il recupero della relazione umana senza altro anche la loro formazione scolastica è stata molto impattata devo dire dalla situazione del covid si sono evoluti dal punto di vista degli strumenti digitali attraverso la didattica a distanza ma hanno perso l'interattività umana la facilità del contatto che è fondamentale all'interno dei luoghi di lavoro i ragazzi hanno lavorato sulla progettazione di impianti sistemici con precise consegne da rispettare e qualche trabocchetto da risolvere utilizzando il pensiero creativo questa cosa ti apre ti apre proprio un mondo che a scuola non vedi sono dei software decisamente più avanzati e effettivamente applicati nel mondo del lavoro quelli utilizzati a scuola sono molto più didattici che ti fanno avere solo un assaggio di quello che può essere il mondo reale insomma se fosse possibile in futuro sarebbe forte lavorare in questa azienda Voltiamo pagina Verona apre agli artisti di strada entro la metà di aprire il nuovo regolamento frutto di un lavoro corale tra diversi gruppi consigliari e gli uffici comunali sarà operativo il servizio di Francesca Pellegrini A Verona presto si potrà respirare l'aria delle altre città europee dove la cultura si esprime anche attraverso le esibizioni nelle piazze e nelle strade di artisti diversi è pronto il nuovo regolamento grazie all'impegno e alla volontà politica di un gruppo di consiglieri comunali che nei mesi scorsi ha lavorato al documento documento che andrà a sostituire l'attuale stringente al regolamento che di fatto impedisce l'arte di strada come testimoniano i diversi sgomberi fatti dalla polizia locale a percussionisti pianisti che avevano dilettato in passato con la loro musica e passanti confermando di fatto come Verona sia sempre stata piazza difficile per chi voleva esibirsi pubblicamente grazie al nuovo regolamento Verona si allinea ad altre città italiane nelle prossime settimane il documento sarà esaminato nelle circoscrizioni chiamate a indicare i luoghi più idonei per le esibizioni che la giunta poi individuerà dopo il voto in consiglio comunale indicativamente entro metà aprire il nuovo regolamento sarà operativo si potrà suonare si potrà esibirsi si potranno applicare tutte le diverse discipline previste nell'arte di strada anche inquadrata a livello normativo nazionale si potrà farlo con delle regole chiare semplici e soprattutto gratuitamente per valorizzare l'arte di strada tutte le forme di arte di strada è chiaro che ci saranno zone un po' più delicate ma ad alto flusso turistico per cui bisognerà contemperare alcuni interessi diversi magari orari differenziati e altre zone invece in cui ci sarà più libertà di espressione per animare le strade del centro dei quartieri sarà sufficiente comunicarlo tramite un'apposita app che individuerà le postazioni a disposizione che si potranno dunque prenotare online sarà possibile fare musica anche con amplificazione con dispositivi a batteria ci saranno orari ben definiti per tutelare i residenti e commercianti che non superranno le 22 oltre a rispettare la finestra pomeridiana del riposo ciascuno dei gruppi coinvolti ha portato la propria storia le proprie anche esperienze progresse abbiamo lavorato bene e ci auguriamo quindi di riproporre questo metodo anche per ulteriori inizi bene TG Veneto News termina qui dunque a tutti voi un buon proseguimento di giornata arrivederci CA realizziamo impianti tecnologici su infrastrutture industriali e pubbliche gallerie ed autostrade CA riusciamo a vincere le sfide più impensabili